Alessandro Barbero, a 29 anni in cattedra all'università. A 37 vince lo strega con il romanzo Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle Gentiluomo. A questo punto quasi una carriera realizzata. In realtà siamo solo all'inizio di un lungo percorso che non vede mai venir meno la sua passione per la conoscenza della storia e addirittura non solo per raccontarla, per portarla agli altri in qualsiasi forma mi verrebbe da dire. Cominciamo dall'inizio. Dove nasce questa passione per la storia? In che momento nasce? Se è ancora sui banchi di scuola superiore, elementare o se è dopo l'incontro con l'opera di Mark Bloch? La passione per la storia nasce da bambino. Nasce da quando io ho memoria fondamentalmente, da quando io ho memoria della mia infanzia e quindi diciamo la memoria è legata al fatto che ho cominciato a leggere dei giornalini, per esempio, il Corriere dei Piccoli, ma molto presto anche a dare un'occhiata a riviste che passavano in casa. Parliamo della seconda metà degli anni Sessanta. C'era una meravigliosa rivista che era Storia Illustrata, che era un po' l'equivalente di quello che possono essere oggi Archeo o Medioevo, una rivista da edicola. Mia nonna era abbonata e io ho imparato a leggere praticamente appunto sul Corriere dei Piccoli, che conteneva molte storie ambientate nel passato, che conteneva fogli di soldatini meravigliosi, a volte anche disegnati da grandi disegnatori, da Dino Battaglia per esempio, e poi ho imparato a leggere appunto su Storia Illustrata. Si trattava essenzialmente della storia militare, ecco. Quello che mi affascinava da bambino e da ragazzino era quello. Anche Storia Illustrata si occupava al 90% delle due guerre mondiali, ecco. La storia per me era quello. E si accompagnava al fatto di giocare con i soldatini, di fabbricare modellini di carri armati, di aeroplani. Erano giochi, però avevano la caratteristica di essere radicati nella storia. Non esisteva per esempio all'epoca il fantasy, i mondi immaginari in cui giocare, no? Si giocava nel passato, nel passato autentico. E per me quella passione lì, appunto, in quella forma è nata a sei, sette, otto anni. Si accompagnava con un'altra passione, devo dire che a lungo mi ha lasciato esitante, che era la passione per gli animali, per il mondo animale, per gli uccelli, per gli insetti, le farfalle. Però diciamo che questa seconda passione non è mai stata competitiva nel senso di diventare un lavoro. Mi ha accompagnato, ce l'ho anche adesso, quando posso vado in campagna con un binocolo a fare birdwatching, però la passione per la storia invece è quella che ho avuto sempre. Quindi direi che non mi ha mai abbandonato, salvo che poi al liceo, attraverso la lettura di Mark Bloch che lei citava, ha preso una sterzata che invece non prevedevo, e cioè la sterzata verso il Medioevo. Io, anche se capita di occuparsi di tante cose facendo divulgazione, però io sono un medievista, insegno storia medievale e il mio cuore batte lì. Ecco, nella mia passione per la storia quando ero ragazzo non c'era questo. Invece la lettura di blocco mi ha deviato bruscamente, mi ha fatto nascere questo improvviso innamoramento per un'epoca e io sono andato all'università già deciso a studiare storia medievale. Ho fatto quasi soltanto esami di storia medievale, allora si poteva. Era ancora quell'epoca felice, post 68, in cui il piano di studi era completamente libero, non come adesso che ai nostri ragazzi noi li obblighiamo a fare due esami di italiano, due esami di geografia, quali che siano i loro interessi. Quando ho fatto l'università io si studiava quel che si voleva e io ho studiato solo storia medievale in pratica. Non avrei potuto fare nessun altro lavoro, sarei morto di fame se non avessi avuto invece il posto all'università molto presto, erano altri tempi anche quelli appunto. Le volevo, mi dai destro per due domande. La prima è che in tempi in fondo generazionale in cui imperversava la storia economica soprattutto e poi era arrivata la storia sociale e poi è arrivata la storia delle tradizioni e quindi fino alla microstoria lei si sia occupato o si interessi ancora di storia militare. Una passione che ha in comune con il professor Giovanni Brizzi che si occupa di storia militare romana, antica insomma, però che è sempre stata fonte per me di curiosità anche a lui più o meno in diverse occasioni ha fatto la stessa domanda. La seconda, che non so se è da collegare al discorso di una generazione che è sufficientemente a distanza da seconda guerra mondiale da non capirne quelli che sono i resti e quindi volerne capire le ragioni quando lei si interessa di storia, vede i carri armati appunto eccetera eccetera, se in bloc sia la questione della conoscenza o anche la questione dell'etica che lei è stata molto importante. Dunque per quanto riguarda la storia militare in quanto contrapposta appunto alla storia economica sociale, devo dire che in realtà io mi rendo conto adesso da grande che c'è una continuità precisa tra quelle passioni infantili e il mio fare lo storico. Me ne rendo conto perché appunto mi viene chiesto quando è che è nata in me la passione per la storia e non posso non riandare appunto alla mia infanzia, ma in realtà sono state tappe poi dimenticate a un certo punto. È vero che negli anni settanta quando io mi sono iscritto all'università dominava la storia economica, mi ricordo di una cosa precisa, iscritto all'università a Torino scopro che c'è una cattedra e un corso di storia economica e mi ricordo che la mia reazione di bravo liceale che aveva studiato bene la storia al liceo con bravi docenti, bravissimi docenti, la mia reazione era stata di dire ma come un corso di storia economica? Ma tutta la storia è storia economica. Questa era l'ortodossia diciamo che noi respiravamo allora. Allora sì, io la storia economica in particolare non l'ho mai amata molto, ma sicuramente in quell'epoca non mi occupavo più di storia militare. Io pensavo fossero appunto passioni rimaste indietro negli anni dell'infanzia, dell'adolescenza. La passione per il Medioevo non è tanto la dimensione etica dell'insegnamento di Marc Bloch che è una dimensione che ho scoperto in seguito. Chi fosse Marc Bloch quando a 16, forse 17 anni o 18 al massimo ho letto La società feudale, ero ancora al liceo e me l'ha prestato un compagno che aveva tanti libri in casa. Quando io ho letto La società feudale non sapevo mica chi fosse Marc Bloch, non sapevo degli suoi ultimi anni di vita, della sua partecipazione alla resistenza, della sua fucilazione da parte dei nazisti, non sapevo niente di tutto questo. Quello che Bloch mi ha rivelato è il Medioevo e cioè un'epoca di incredibile libertà, un'epoca che dava poca importanza ai condizionamenti, un'epoca poco ipocrita, ecco diciamo così. A me è quello che ha colpito leggendo Bloch e che ho poi sempre ritrovato studiando il Medioevo e che rispetto ad altre epoche, sia l'antichità romana specialmente, sia poi il mondo moderno, il Cinquecento, il Seicento. Nel Medioevo c'era molta meno ipocrisia, le persone erano molto più dirette. Un re si sedeva per terra, se aveva voglia di sedersi per terra. I poeti usavano le parolacce come le usa Dante nella Divina Commedia. Autori serissimi, coccolati dai sovrani e membri della Chiesa, come Boccaccio che era un sacerdote, scrivevano storie di sesso, spudorate. Questa è una caratteristica del Medioevo che è forse quella che io amo di più e che appunto ho sempre poi ritrovato negli autori medievali, nei cronisti che ho letto poi durante tutta la mia vita, la mia vita di studioso. La storia militare è tornata fuori dopo, è tornata fuori dopo nel momento stesso in cui tutta la nostra professione di storici l'ha di nuovo sdoganata. Perché la storia militare, come dire, aveva due caratteristiche negative. Una in passato era molto spesso fatta da non professionisti, da ufficiali dell'esercito, dagli stati maggiori, i quali erano interessati essenzialmente ad aspetti tecnici che la rendevano molto arida alla lettura. E poi la storia militare, nel senso di l'impressione che i manuali parlino solo di guerre, di battaglie, di date, di trattati, di vittorie, di sconfitte, poi nel linguaggio degli storici del Novecento, nel linguaggio di Mark Bloch e della scuola delle Annale, è diventata proprio, come dire, il simbolo di tutto quello che si rifiutava. L'histoire-bataille. Ecco, quello era lo slogan per dire non la vogliamo più fare questa storia. Poi però, già dagli anni settanta, quindi quando studiavo io, i grandi medievisti, la nuova generazione degli allievi di Bloch, come per esempio Georges Duby, hanno scoperto che le battaglie erano però cose importantissime, che bisognava studiarle in un modo nuovo, capendo come in una battaglia tutte le energie di una società, ecco, si dispiegano nello scontro con un nemico e capendo anche come nella battaglia si rivelino i modi di pensare, la mentalità, proprio gli ingranaggi mentali, oltre a quelli sociali e tecnologici di un mondo. Quindi non io, ma in generale gli storici hanno scoperto che elencare battaglie è molto noioso, ma immergersi in una battaglia, in una guerra, per vedere come funzionavano le cose, invece è molto rivelatore, ecco, del mondo che si vuole studiare. E io pian piano, quindi, ho scoperto che la storia militare poteva essere anche un pezzo della mia attività vera di studioso e non soltanto un passatempo, ecco. Giorgio Guglielmo Federico Hegel dice che la filosofia è cogliere il proprio tempo in pensieri. Lei ha una definizione per la storia? No, ma non ce l'ho pronta. La storiografia che parla della storia, ovviamente. Certo, certo. Non ce l'ho pronta e prefabbricata. Se volessi provocare direi che mi viene in mente una definizione della filosofia, che però è provocatoria, non la sottoscrivo del tutto, ma è la definizione che ne dà un grandissimo storico come Gaetano Salvemini, il quale, Salvemini, non io, dice la filosofia non è, non sarebbe dannosa, sarebbe più che altro inutile se non fosse che fa perdere tempo alla gente. Ecco. Questo, diciamo, per dire che storici e filosofi sono molto diversi, hanno teste molto diverse e funzionano in modi davvero diversi. e forse questo si, come dire, si coglie anche nel fatto che ai filosofi interessa definire la filosofia. Agli storici credo che non importi granché definire la storia, però, però Mark Bloch si era posto il problema e aveva dato una risposta che io, devo dire, non condivido del tutto ed io mi perdoni, perché ovviamente appunto sto dicendo che non condivido qualcosa di detto da uno storico mille volte più bravo di più grande di me. Però Mark Bloch era un po' stufo di questa idea che la storia venisse collegata al passato e ha provato a superare questo limite dicendo no, non è questo, non è che noi studiamo il passato. Noi studiamo l'azione degli esseri umani nel tempo. Il tempo è fondamentale per noi perché il cambiamento, il divenire, il concatenarsi degli avvenimenti è quello che fa capire cosa succede. Ecco, quindi Bloch diceva la storia e la scienza degli uomini nel tempo. Io sono d'accordo, ma il mio piccolo disaccordo sta nel fatto che però, secondo me, il tempo presente non ci appartiene. Noi studiamo cose che sono già accadute, non cose che stanno già accadendo, perché è diverso, ecco, è diverso. Le cose che stanno già accadendo, che stanno ancora accadendo, intanto non sappiamo come vanno a finire e sapere come qualcosa è andata a finire è importantissimo per cogliere cosa c'è di veramente importante. E poi le cose che stanno accadendo sono piene di misteri. Io posso studiare, posso arrivare fino agli anni 80 del Novecento e avere a disposizione documenti che all'epoca erano segretissimi e che oggi invece sono disponibili. A me è capitato, non di studiare, ma di preparare una conferenza sulla guerra delle Falkland e quindi 1982. Ebbene, online, sul sito della fondazione Thatcher, Margaret Thatcher era allora primo ministro di Gran Bretagna, ci sono i documenti segreti delle riunioni di gabinetto, con la pianificazione della guerra, con gli appunti di pugno della Thatcher che contesta quello che dice un ministro o un generale. Queste cose all'epoca nessuno le poteva vedere. Noi oggi le vediamo, ma non sappiamo cosa succede nelle riunioni di governo di oggi, tranne quello che viene rivelato nelle conferenze stampa, che è la parte che è meno interessante. Ecco, quindi in realtà lo storico, certo aveva ragione Bloch ovviamente, studia l'uomo nel tempo, ma secondo me si ferma un po' prima del momento presente. Quando si entra nel presente, l'altra ragione è che il presente scappa da tutte le parti. Il passato, essendo finito, anche la quantità di informazioni che abbiamo sul passato può essere immensa, ma comunque è finita. e uno si scava una via dentro questa massa di informazioni. Capire il presente, di nuovo, è la stessa cosa, vuol dire scavarsi una via, ma con tecniche diverse. Lo sguardo del sociologo o dell'antropologo o del giornalista non è lo stesso dello storico, ecco, secondo me. Lei ci ha spiegato anche perché è un buon narratore, ma ci arriveremo dopo. Adesso, su questo argomento, i teorici della letteratura dicono che un romanzo storico si può fare quando sono passati almeno 50 anni. Cioè l'argomento, non la materia di un romanzo storico, ma questa è una definizione di qualche anno, forse di più di un decennio fa, che oggi forse è meno vera, perché noi abbiamo tutti la sensazione più o meno che il passato diventi passato più velocemente. È una cosa che pensiamo noi o che è un dato di fatto rispetto alle tecniche di memoria, ai supporti di memoria, alla velocità con cui cambiano gli eventi, l'orizzonte degli eventi. Io se devo raccontare qualcosa di 30 anni fa, già devo, e ho anche gli strumenti in questo momento, recuperare tutto un sistema di oggetti con suetudini, eccetera, che non ci sono più. Questa velocità di cambiamento, a parte alcuni momenti, insomma, epocali, è stata più lenta nel passato. È vero o no? Allora, io direi che è vero solo sotto un certo aspetto pur importantissimo, che è quello delle tecnologie. Noi abbiamo assistito negli ultimi 30 anni all'irruzione di nuove tecnologie che hanno trasformato certi aspetti della nostra vita quotidiana e che anche hanno trasformato forse il nostro modo di pensare, di reagire, di affrontare i problemi. Beninteso, non tutte le tecnologie. Le automobili, nonostante tutto, non sono poi cambiate così tanto. Gli aeroplani, ancor meno, a parte l'elettronica che ci è stata montata sopra. Però sono davvero il telefonino cellulare, internet naturalmente, con tutto quello che comporta. È inutile che lo dica io. Tutto ciò che è legato all'informatica, certo. Quelle sono grosse novità che hanno cambiato tante cose e che pongono un problema all'autore di romanzi storici, più che altro, o anche di film, è beninteso, ambientati nel passato. Più che altro perché bisogna stare molto attenti ad azzeccare. Voglio dire, nel 2001, quando c'è stato l'attacco alle torri gemelle, c'erano già i cellulari. Sì, perché qualcuno da quegli aerei ha chiamato casa dicendo ci stanno dirottando. Quello io me lo ricordo. Quindi avevano già i cellulari. Ma non facevano i messaggini, per esempio. Non facevano gli sms. Insomma, ecco, qui bisogna stare molto attenti per non fare degli anacronismi. Però sotto altri aspetti, io invece ho l'impressione che il passo del cambiamento non si sia affatto accelerato. E faccio un esempio. Se io vedo un film del passato, un film del Novecento, alla prima scena mi accorgo se è un film degli anni 30 o degli anni 50 o degli anni 60, tutto diverso. Non solo il film stesso per la sua tecnologia, colore, non colore, così via. Ma proprio per come sono vestite le persone, per il taglio dei capelli, per come parlano. Va tutto bene fino agli anni 70. Gli anni 70 sono ancora molto riconoscibili. Grandi cravate colorate e capigliature abbondantissime per i maschi. Gli anni 80 già meno. io devo dire che tra un film del 1990 e uno del 2010 io a occhio la differenza, non la vedo. Mia moglie che è più sensibile mi dice, ma sì, vedi che il taglio della giacca è un po' più svasato, però veramente non sono, sì, però non sono cose così vistose. Ecco, noi abbiamo anche tra l'altro una libertà nel vestire. Noi adesso siamo entrambi in cravatta naturalmente, perché siamo in un'occasione solenne. Io senza giacca, perché non ce l'ho fatta. E io invece sto in un posto piuttosto freddo, sono in campagna e quindi non mi peso la giacca per niente. Noi abbiamo una libertà nel fare cose maggiore, forse, nella nostra epoca almeno in apparenza, nelle cose minori e meno conformista. Poi noi siamo molto conformisti in cose molto importanti, però nelle cose minori spicciole no. E questo vuol dire che appunto in realtà i comportamenti individuali vengono fuori e sono individuali e quindi boh, vent'anni fa o trent'anni fa era già così. Quindi da quel punto di vista il cambiamento non è così veloce secondo me, diciamo. I cinquant'anni per il romanzo storico, ma io credo che nello scrivere romanzi si debba evitare di dettare delle regole. L'unica regola per fare un romanzo è di scrivere bene e fare un bel romanzo che il lettore abbia voglia di leggere. Dopodiché si può fare quello che si vuole. Ci arriviamo dopo. Adesso facciamo una domanda di quelle proprio canoniche che si fanno agli storici. Per immaginare che noi viviamo nel presente e abbiamo le vestigia del passato e c'è il passato che diventa nel presente valore, che diventa giudizio su come sono andati gli effetti, effettivamente le cose e tutto questo. La domanda nella forma così più o meno retorica è quale passato diventa storia e sottintende il ruolo della storia dei vincitori, cioè nel senso che io per un certo periodo studiando ho pensato che il compito della storia fosse trovare le ragioni dei vinti, diciamo, una cosa del genere. Però in realtà poi gli storici mi hanno convinto che non è solo quello e non può essere solo quello, nel senso che bisogna anche interrogare la storia da tutti i punti di vista e vedere proprio il modo in cui perviene al presente e da lì cominciare il lavoro. M'inganno? No, non si inganna. Il punto è che anche qui ci sono secondo me diversi livelli di valutazione di che cos'è la storia e di che cosa è interessante e importante e memorabile. Perché c'è un primo livello di base che secondo me tutti noi che facciamo questo mestiere condividiamo? Che consiste nel dire che in realtà la storia è assolutamente tutto ciò che è accaduto all'umanità. Tutto? Tutto. Chi può essere sicuro che quel dettaglio è troppo insignificante? Io posso arrivare a dire che se potessi sapere cosa mangiava a colazione ciascun contadino dell'età di Carlo Magno forse arrivato al centesimo contadino che mi dice io mi faccio una zuppa al mattino forse direi va bene ne so abbastanza ma io cento contadini dell'età di Carlo Magno se potessi li intervisterei volentieri su che cosa mangiavano a colazione. Non c'è assolutamente nulla che non valga la pena di ricostruire perché non si sa mai che cosa alla fine potrà come dire fare massa e arrivare a farci capire qualche cosa di inaspettato. E del resto è ben in base a questo principio che gli storici del novecento si sono rifiutati di occuparsi solo di battaglie e di trattati di pace e si sono rifiutati di occuparsi solo dei papi e degli imperatori perché se no avremmo continuato. Se il discorso fosse privilegiamo le cose importanti è chiaro che la guerra dei cent'anni è più importante che non la storia degli orari dei pasti per esempio ecco e invece no e invece noi ci interessiamo a tutto perché qualunque cosa può dare un maggior senso al ricordo del passato e la nostra conoscenza alla nostra comprensione di chi sono gli esseri umani. Poi ovviamente invece bisogna fare delle scelte. Si fanno delle scelte per esempio quando dalla ricerca si passa alla divulgazione. Quello nel nostro mestiere è una biforcazione molto netta perché io posso scrivere lo sto scrivendo ci sto lavorando da anni ci lavorerò ancora per molti anni un libro sull'aristocrazia valdostana del tredicesimo secolo in cui io quello che in questo oggi prima di questa intervista io stavo cercando di capire se un certo canonico del capitolo cattedrale di Aosta che si chiamava Hemant de Cour attestato dal 1256 al 1281 fosse fratello o cugino del cavaliere Jacques de Cour. Questa cosa a me ha occupato mezz'ora della giornata di oggi non l'ho risolta e ne sono molto seccato ma questo libro quando fra molti anni l'avrò finito lo pubblicherò in sede accademica e interesserà a una cinquantina di colleghi sparsi fra l'Italia la Francia e la Svizzera e non interesserà a nessun altro se io proponessi al mio editore Giuseppe La Terza di pubblicare quel libro si metterebbe le mani dei capelli perché non saprebbe magari avrebbe paura gli dispiacerebbe perché è un gran signore dirmi di no ma l'idea di pubblicare quel libro e invece quando vogliamo farci leggere da un pubblico più ampio è chiaro che bisogna trattare trattare temi importanti coinvolgenti di cui tutti vedono l'importanza e fra l'altro abbiamo ricominciato a pubblicare appunto storie di battaglie e biografie di grandi personaggi perché questo in realtà interessa alla gente. mi ha portato lei è arrivato lei da solo alla domanda che avevo in servo per successiva insomma che aveva a che fare sempre con Giorgio Guglielmo Federico Hegel che quando sulle mura di Iena appunto vede Napoleone dice ecco spirito del mondo a cavallo appunto e in fondo i grandi eventi i grandi personaggi affascinano comunque e pongono delle domande più ampie perché sembrano raccogliere in sé i grandi elementi propulsivi e le grandi contraddizioni della storia. Napoleone ha affascinato anche lei. Sì devo dire qui siamo davvero nel discorso che facevo inizialmente mi ha affascinato da ragazzino dato che siamo in questo clima di amarcord rievoco ancora un'esperienza intellettuale importante della mia infanzia. Io a dieci dodici anni ho cominciato a leggere appunto dei libri veri non soltanto libri per ragazzi e c'era allora questa collana dei libri pocket della Longanesi tascabili erano i concorrenti degli Oscar Mondadori ma pubblicavano essenzialmente saggistica memorialistica costavano 350 lire e io li ho cominciato a comprarli a farmeli regalare con la mia paghetta settimanale e compravo memorie di aviatori della seconda guerra mondiale poi magari davo i nomi di questi aviatori ai miei pesciolini rossi con grande costernazione dei miei genitori che si chiedevano dove sarei andato a finire. Fra quei libri ho trovato un libro che è ancora adesso nello scaffale vicino al mio comodino e cioè la vita di Napoleone di Lerbello che era uno storico inglese cattolico anglo francese anzi degli anni 30 40 grandissimo scrittore storico molto disinvolto mi sarei poi accorto da adulto che c'erano errori marchiani nel suo libro su Napoleone però grandissimo coinvolgente scrittore e lì per me quel libro è uno dei libri che mi hanno segnato ecco da allora non l'uomo Napoleone di cui poi è molto facile scoprire gli enormi difetti la meschinità la cialtroneria la disinvoltura morale e tuttavia l'enorme impatto che ha avuto appunto in quanto come dice Hegel appunto spirito del mondo anima del mondo bel zelle dice mi pare no ecco l'anima del mondo perché in quell'uomo si concentrano me l'ha visto anche manzoni no del resto si concentrano due secoli l'uno contro l'altro il passato e il futuro e quindi a questo punto quell'uomo è un grande della storia è un uomo memorabile che merita di essere ricordato al di là del fatto che lui personalmente fosse un uomo pieno di difetti e di colpi professor barbero sa che la mia memoria retroattiva ha registrato una cosa lei prima senza accorgersene ha dato una sua definizione della storia che è stata me la sono scritta nel trash precedente conoscere meglio l'essere umano che mi sembra in fondo una definizione pulita precisa e forse forse perfetta di quello che è il lavoro sul passato e sulle testimonianze del passato io direi che è assolutamente così è assolutamente così è ben inteso è interessante vedere questo è uno sviluppo di un'idea iniziale l'idea iniziale della storia nella civiltà antica era ricordiamo le cose grandiose ricordiamo i grandi uomini perché quelle cose lì vale la pena di ricordarle oggi noi il concetto lo abbiamo allargato continuano a essere fondamentali i grandi uomini e i grandi avvenimenti anche perché lasciano un'impronta ma di fatto studiare la storia vuol dire studiare i comportamenti degli esseri umani la storia è il catalogo immenso di tutto quello che gli esseri umani hanno fatto su questa terra le cose grandiose e le porcherie le infamie e le cose memorabili e meravigliose e anche le cose banali e quotidiane in realtà perché lo scopo è capire meglio chi siamo capire come ci comportiamo e quindi la storia in questo senso è è anche un catalogo di esempi una volta si diceva storia magistra vite no ecco non nel senso che la storia si ripeta esattamente e che quindi uno possa dire a date queste 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 variabili io posso prevedere come andrà a finire sarebbe troppo comodo però anche se non possiamo prevedere con certezza come andrà a finire essere a conoscenza degli esempi di situazioni analoghe precedenti ti libera molto il pensiero e ti fa vedere con maggior chiarezza anche il presente effettivamente quello che mi piacerebbe se se lei vuole farlo che lei individuasse per esempio lo spirito del mondo magari in elicottero che oggi si può no lei se fosse sulle mura insomma di una città guardando le verrebbe in mente di dire e poi anche un'altra cosa che è correlata ma forse si può anche disgiungere benissimo qual è l'evento del nuovo millennio che secondo lei sarà più presente a parte le torri insomma o le recente appunto la recente recente pandemia qual è come come da interpretare però in fondo le torri sono interpretati in un certo senso si era molto da scavare ma la pandemia è palese avremo ma qualcosa che è rimasto insomma meno evidente e che forse avrà avrà ancora motivo di essere indagato in futuro per capire meglio appunto non solo l'essere umano il suo tempo allora io risponderei diciamo questa seconda parte della domanda perché un altro napoleone nel mondo di oggi non si è ancora rivelato magari c'è da qualche parte un sottotenente di artiglieria che aspetta soltanto la sua occasione la domanda mette a fuoco un altro problema cruciale nella definizione della storia cioè il rapporto fra gli avvenimenti percepibili come tali databili no ecco e lo scorrere profondo della storia sono due cose collegate ma diverse e la mia sensazione è che noi in questi ultimi vent'anni in occidente a livello di avvenimenti abbiamo molto rallentato io la pandemia mi ha smentito ma io a febbraio ancora a febbraio di quest'anno mi sono trovato a parlare all'università statale di milano davanti a un'aula strapiena di studenti e discutendo parlando con loro mi è venuto da dire insomma voi avete vent'anni un vostro coetaneo che avesse avuto vent'anni nell'anno 1920 pensate che cosa aveva visto a partire dall'omicidio quando era appena nato l'omicidio in Italia di Re Umberto anno 1900 poi i governi giolitti poi le guerre le guerre balcaniche le guerre coloniali la guerra di Libia poi poi l'attentato di Sarajevo la prima guerra mondiale e poi e poi la rivoluzione d'ottobre un ragazzo del 1920 a vent'anni ammesso che fosse sopravvissuto alla guerra aveva visto una quantità di avvenimenti dico proprio avvenimenti ognuno con la sua data no l'attentato di Sarajevo 28 giugno 1914 una quantità di avvenimenti da riempire cento libri e io dicevo a questi studenti nel febbraio di quest'anno nei vostri vent'anni di vita voi qui in occidente è chiaro che se uno vive in Libia avvenimenti traumatici dell'abbattimento di Gheddafi la sua morte la guerra civile ma un italiano un occidentale di avvenimenti di questo tipo da esser sicuri che in futuro si ricorderanno e quali mai ci sono stati puntualmente è arrivata la pandemia a smentirmi però anche adesso noi parlando abbiamo detto la pandemia e prima le torri gemelle ma sono passati 19 anni dalle torri gemelle e no è impressionante come pochi siano gli avvenimenti nel senso che dicevo invece invece noi sicuramente in questi vent'anni abbiamo assistito a qualcosa di molto profondo che sta maturando ma non sappiamo ancora bene che cos'è perché come dicevo prima non sappiamo ancora come andrà a finire in altre parole io posso immaginare uno scenario per cui nell'anno 2050 o 2100 ma anche 2050 mi voglio rovinare fra 30 anni il mondo sarà dominato dalla Cina la Cina sarà la superpotenza mondiale l'Occidente sarà molto meno importante gli Stati Uniti saranno in declino e allora in se dovesse realizzarsi questo scenario gli storici del futuro nel nostro ventennio cercheranno questo cercheranno come progressivamente si sono gettate le basi dell'egemonia della Cina se invece la Cina fra 30 anni rimarrà un grande paese ma non dominatore del mondo allora non sarà quella la lettura se dovesse succedere Dio non voglia che la pandemia resterà con noi e che tutta la nostra vita per generazioni a venire sarà condizionata da questo e allora l'avvenimento della nostra pandemia della primavera 2020 sarà un evento epocale come la peste del 1348 e se invece la sconfiggiamo e non se ne parla più rimarrà un avvenimento sì molto interessante ma tutto sommato isolato come la spagnola del 1919-20 evidenti e poi e poi noi abbiamo assistito finora negli ultimi trent'anni lo spiega molto bene Thomas Piketty nei suoi grandi volumoni a un accentuarsi nelle società occidentali della disuguaglianza con i ricchi sempre più ricchi e una massa crescente di poveri o semi poveri questa cosa dove porterà porterà un mondo dominato da élite internazionali di oligarchi o porterà una nuova rivoluzione francese o una nuova rivoluzione d'ottobre finché non lo sappiamo è difficile capire quali sono le cose più importanti ma la portata oggi giustamente lei parlando riferiva europa occidente mondo asiatico ma oggi la portata mondiale globale degli eventi con la istantanea informazione l'istantanea mobilità mobilitazione poi di reazioni eccetera non è che in un certo senso anche dal punto di vista soprattutto della percezione esistenziale attutisca la la pressione sull'individuo del degli eventi o li renda eh diciamo in qualche modo più spalmati nel tempo da una serie continua di allarmi ma di nulla che sembra accadere che chiami all'impegno personale sì questo sì però anche perché davvero eh la questa chiamata alle armi noi nei nostri paesi non l'abbiamo avuta eh gli appelli dei governi le misure restrittive e così via di questi mesi sono la prima cosa nel mio ricordo da da decenni in cui tutti hanno dovuto comunque dirsi cosa faccio obbedisco non obbedisco è giusto è sbagliato però però io ho la netta impressione che benché questa vicenda sia una vicenda globale qui in Italia noi abbiamo reagito alla pandemia preoccupandoci dell'Italia eh interessandoci esclusivamente di quello che succedeva in Italia prendendo in Italia misure valide per l'Italia eh adesso che in Italia la pandemia sta reccedendo pesantemente per fortuna abbiamo la sensazione che la pandemia è finita a me è capitato ieri di chiacchierare con queste stesse tecnologie nostre con Paco Taibo lo scrittore messicano e il grande scrittore grande amico e in Messico loro sono nel pieno della pandemia e io ci sono rimasto quasi male per l'indifferenza con cui ne parlavo con loro perché per me italiano ormai è una cosa che stiamo superando eh io direi che questa nostra epoca fa coesistere la globalizzazione dell'informazione e delle economie che si influenzano a vicenda ma la pandemia ha anche rivelato l'enorme importanza della dimensione locale nazionale statale che in Europa per esempio chiaramente è la dimensione dominante della nostra vita di tutti alla faccia di Bruxelles e di Strasburgo. Paul Ricoeur il filosofo Paul Ricoeur ha fatto tre volumoni mille pagine ciascuno per raccontarci no com'è il tempo no per raccontarsi la relazione tra il tempo e il racconto e dedicando alla storia e alla narrazione un volume per uno no ha comunque detto che di fondo anche la storia comunque per quanto le statistiche per quanto i riferimenti puntuali eccetera alla fine non si può raccontare non si può fare a meno di metterla in intreccio non si può fare a meno di creare una relazione tra ordini diversi temporali e qualità e quantità degli eventi cioè mettere in intreccio no lei ha dato prova di esercitare su tutti e due i versanti sia quello della narrazione storica sia quello della narrazione della storia ma in termini di romanzo no una particolare abilità qual è secondo lei lo so che è una domanda che è fin troppo facile per questo è difficilissima risposta qual è quando ma quando lei si mette ecco così la cosa nella maniera faccio la domanda nella maniera più più semplice così diventa ancora più difficile la risposta quando lei si mette e sta scrivendo lì un romanzo rispetto a quando sta scrivendo un saggio anche con carattere più divulgativo però che è veramente di storia quale differenza fondamentale cioè per quanto riguarda il tipo di lavoro che si che si prepara a fare ma dunque il lavoro la prima fase del lavoro è assolutamente la stessa e la ricerca cioè e io devo dire che a me è capitato a volte di decidere che avrei fatto un romanzo e non un saggio su un certo argomento dopo che per molto tempo avevo accumulato letture e schede appunti su quell'argomento così come un lavoro fine a se stesso senza ancora aver ben chiaro cosa ne avrei fatto perché in realtà la vera molla del nostro lavoro è quella la scrittura viene in un secondo momento e per me è importantissima lo è per tanti colleghi ma ci sono anche tanti colleghi storici per i quali invece la scrittura è un po' un obbligo diciamo così bisogna farlo ma quello che noi sentiamo è che il lavoro vero viene ancora prima il lavoro vero è quando uno individua un argomento un'epoca un avvenimento un personaggio dei problemi delle domande e comincia a accumulare le informazioni su questo questo è ci fa lo stesso modo e tra l'altro la fase più piacevole in assoluto del lavoro perché scrivere è una responsabilità e invece passare una giornata in biblioteca a leggere uno dopo l'altro libri e articoli che parlano dell'argomento che in quel momento per te è la cosa più importante del mondo perché funziona così è una cosa meravigliosa quando uno si dedica a un argomento quell'argomento in quel momento cancella tutto il resto succede anche poi però all'inverso quando hai pubblicato l'articolo o il libro di colpo di quell'argomento non ti importa più nulla te lo sei tolto te ne sei liberato ma finché fai ricerca è la cosa più importante del mondo la differenza fra scrivere un romanzo e scrivere un libro di storia sta nel fatto che a un certo punto devi cominciare appunto invece a fabbricare un oggetto tu fabbrichi un oggetto un libro è un oggetto che tu devi progettare e pian piano costruire con i materiali che hai accumulato e lì devo dire il romanzo è più difficile nel caso del libro di storia la trama è se non obbligata però già largamente suggerita la sequenza degli avvenimenti è quella poi ogni volta che si scrive un libro un articolo di storia è sempre un enorme problema decidere sì però cosa faccio seguo un ordine cronologico oppure smonto spezzo ricostruisco in un altro modo quello è una alternativa drammatica dico drammatica perché è sempre doloroso decidere comunque rinunci sempre a qualcosa per di sempre qualcosa io devo dire che la mia tentazione come storico sarebbe sempre di mettere in fila tutte le informazioni che ho in ordine strettamente cronologico e dire ecco fatto finito e invece non si può fare solo quello purtroppo invece quando fai un romanzo hai quello che potrebbe sembrare un grande vantaggio e cioè che puoi cambiare le cose puoi aggiungere soprattutto dico aggiungere perché a me cambiare non piace anche quando faccio un romanzo storico in realtà io cerco di fare in modo che tutto quello che è verificabile corrisponda a ciò che davvero esisteva quando ho fatto il mio primo romanzo storico quello che poi ha avuto la botta di fortuna di vincere il premio strega a metà degli anni 90 che è di fatto il diario di un viaggiatore americano che per vari mesi si aggira per l'Europa di Napoleone e ogni giorno scrive il diario e incontra personaggi di tutti i tipi io ho cercato in modo ossessivo di fargli incontrare soltanto personaggi storici che quel giorno erano lì lui incontra Goethe a Weimar ma io lo mando a Weimar in un giorno in cui so che Goethe era a Weimar non era a Iena per dire ecco e avrei considerato un tradimento spostare un personaggio da un giorno all'altro quello io l'ho fatto in modo ossessivo al punto che quando un giornale o una pagina di diario mi ha rivelato che quel certo giorno del settembre 1806 a Berlino pioveva e invece il mio protagonista aveva fatto una bella passeggiata a cavallo al sole io glielo ho cancellato la passeggiata a cavallo ho fatto piovere ho riscritto quella giornata quindi quindi fin lì tutto bene molto rassicurante per lo storico non devo inventare niente però poi invece se vuoi fare un romanzo devi inventare dei personaggi o degli avvenimenti è la grande libertà dell'autore di romanzo ma è anche la grande fatica perché a quel punto è tua la responsabilità di dire questo personaggio che non c'era in realtà io lo invento aggiungo qualcosa al creato ed è mia la responsabilità che valga la pena di aggiungere questo personaggio questo avvenimento e così via quindi la fase di scrittura è diversa in questo senso e io trovo molto più faticosa la scrittura di un romanzo le chiedo ancora una cosa ma con un con un pensiero un fondo che vorrebbe essere un po anche poetico non è in fondo che quando lei scrive un romanzo una narrazione risarcisce in qualche modo anche quel bambino che con la fantasia l'immaginazione ricostruiva poi e c'era uno sguardo c'era un sorriso c'era un ombra c'era qualcosa che nell'immaginazione vibrava e lei comunque adesso in qualche modo la rievoca e la fa vivere ugualmente sì diciamo io credo l'unica cosa su cui obietterei è diciamo io non credo che il bambino abbia bisogno di risarcimento nel senso che si è goduto i soldatini e i modelli e i libri inglesi sulle uniformi napoleoniche fino a 14 15 anni quelle cose me le sono godute ma io intendevo risarcisce in lei il bambino ritorna in qualche modo rivive questa risarcisce in lei il bambino che ha perduto sì sì certo certo no no certamente certamente in effetti io sono una persona che ha un grande attaccamento nella memoria all'infanzia anche lì anche un po ossessivo io ho la collezione completa del corriere dei piccoli dal 1965 al 72 e ogni tanto li rileggo anche quindi sì io ho questo attaccamento molto forte alla mia infanzia e indubbiamente le vibrazioni sono le stesse e sono molto felice del fatto di aver scoperto un mestiere che tutto sommato mi permette di giocare a soldatini perché scrivere un libro sulle battaglie di waterloo è il modo con cui un adulto fa la stessa cosa che quel bambino faceva schierando granatieri di napoleone alti così sul pavimento del salotto sì un ancora qualche cosa perché abbiamo lasciato ma perché era così interessante poi sentire la parola della storia quella parte che in fondo è più della cronaca ma ha a che fare senz'altro con le sue versatili abilità che sono quelle di riuscire a spiegare la storia facilmente non solo alla divulgazione diciamo cartacea ma anche alla presenza notte trasmissioni che da tempo insomma televisive avviene ma addirittura anche sul web leggo perché sono cifre no un racconto sulla vita di caterina la siena 276 mila diciamo visioni poi ancora meglio ristorpettiva completa sull'impero ottomano 275 mila visioni e poi questa ancora potrebbe essere interessante come argomento smentire il mito dello ius primi noctis dice 280 mila che erano interessati appunto a vedere crollare questa no così istituzione mentale o questo tabù non so come chiamarlo che fin dalla scuola appunto media no si sente ma non mai 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 detto esplicitamente ma insomma si sente no circolare come si diventa lo so che la domanda è un po ma insomma qual è l'atteggiamento qual è il pensiero che porta uno storico che è capace appunto di perdere mezz'ora per vedere se no e cercare poi anche a pensare dall'altro punto di vista che in fondo valga la pena di raccontare la storia in maniera che arrivi a tutti ma questa devo dire che è stata una cosa graduale e dovuta soprattutto sollecitazioni esterne perché io tutto mi sarei immaginato tranne che di avere appunto una capacità un dono per parlare in pubblico in questo modo vero è che tutti noi per mestiere facciamo lezione chi con maggior piacere chi meno tutti in realtà con un certo piacere perché il contatto diretto con gli studenti è comunque una cosa molto gratificante e ce ne siamo accorti tutti in questi mesi in cui chi di noi faceva lezione ha dovuto farla appunto attraverso il computer e tutti ci siamo accorti che è un'esperienza molto inferiore che rende molto bene che è molto meno piacevole bella e ricca sia per noi sia per i nostri studenti questo tengo a sottolinearlo quindi far lezione davanti a un'aula piena di gente che è venuta lì a sentirti e noi all'università abbiamo anche il privilegio che i ragazzi che sono davanti a noi entro certi limiti hanno scelto di essere lì la frequenza non è obbligatoria di essere iscritto a lettere o a storia e non al politecnico insomma ecco quindi effettivamente parlare a un pubblico è una parte del nostro mestiere però però è molto diverso parlare in un teatro davanti a mille persone naturalmente o in una piazza o sotto un tendone e questa è una cosa che è nata per sollecitazioni esterne perché in tutto il nostro paese e chi ha a che fare con Pordenone legge lo sa bene in tutto il nostro paese negli ultimi decenni c'è stato questo fenomeno straordinario e unico perché non succede con la stessa frequenza e la stessa ricchezza di appuntamenti negli altri paesi appunto della nascita dei festival e quindi lo stimolo è nato da lì i festival e quella cosa che è una specie di festival appuntate che sono le lezioni di storia della casa editrice la terza no ecco questi incontri appunto in teatro e è nato da quello me l'hanno chiesto e io mi ricordo ancora adesso l'angoscia l'ansia il timore la prima volta che ho dovuto appunto nell'auditorium di Roma in una sala da 1200 spettatori piena salire su un palcoscenico nel buio sapendo che per un'ora dovevo parlare a queste 1200 persone dell'incoronazione di Carlo Magno da allora l'ho fatto tante tante altre volte ogni volta con meno ansia anche se comunque quando comincia a parlare un briciolino di di strizza ce l'hai ancora sempre ecco l'ho fatto per le lezioni della la terza l'ho fatto nei festival appunto da porvenone a mantova a sarzana camogli a gorizia a gubbio ce ne sono tanti è una ricchezza del nostro paese che è stata un po sospesa quest'anno per la pandemia ma che spero davvero che riprenda quest'autunno già in parte e l'anno prossimo assolutamente deve ripartire come prima in presenza perché nulla può sostituire ecco l'incontro e io ho scoperto che che mi piaceva e che piaceva anche al pubblico dopodiché tutto quello di mio che si vede in rete tutto quello che si vede su youtube su spotify quasi tutto quello di mio che si vede sono registrazioni di lezioni fatte in presenza davanti a un pubblico in quel contesto si crea un contatto una comunicazione eccitante sono scariche di adrenalina una dopo l'altra alla fine sei esausto ma te ne accorgi solo un'ora dopo aver smesso perché all'inizio ti tiene in piedi questo contatto col pubblico ecco fare la stessa cosa davanti a una telecamera o un computer non è in nessun modo paragonabile la cosa strana è che appunto barbero che sugli spalti della fortezza di sarzana parla a 500 persone delle invasioni barbariche poi messo online dove mi dicono in media l'attenzione dopo due secondi comincia a diminuire e invece un'ora di barbero messa lì funziona lo stesso e questo io non lo so perché è invece da questa nostra conversazione credo si capisca benissimo perché la gente rimane incollata ad ascoltarla io credo che la passione per la materia che lei studia e di cui si interessa sia la molla che viene percepita più di altre io nel salutarla e comunque nel essere stato contento di aver passato questo questo tempo con lei mi auguro di poter rifare questa conversazione anzi di rifarla di nuovo da capo a Pordenone Legge in presenza quanto prima prima prendiamo l'impegno grazie